Ciao a tutti, sempre mia e da sempre a festa Lugare International Abbiamo con noi la vincitrice del 1973 Omar El-Gavid Zitia Reconetra E voi la li conosce Buonasera Omar El-Gavid Siamo veramente felici di averla qui con noi Soltanto due cose per i nostri fan italiani Una bellissima vittoria Avanti a Massimo Ragnieri Avanti a Massimo Ragnieri Buonissimo Certo, buonissimo Sì, adesso ci sei l'avanzo Cioè, ci sei l'avanzo per la Francia E da allora E ci sta la prima immagine Quanto è successo? Sono andata da fare queste domande Oggi sono molto felice di usare Per l'assistente Sono andata da fare queste domande Sessanta anni Sessanta anni Sessanta anni Del show of first of all Perché non avevo vinto Lo pensavo Quando sono stata la vincitrice del 1973 Di essere qua È meraviglioso E prima lei ci ha cantato una canzone meravigliosa Del musicale Lei viene dal musical Cine Ma lei ha poi continuato la carriera di musicale E quanto è molto, molto molto importante E la sua parte era per i bambini Ah, sì Anche per i bambini È un francese che si chiama... Claude Beaulieu Ah, ok E la sua parte è per i bambini E la musica è per i bambini E il luogo che ne è piaciuto di più È difficile di dire perché... Non mi è negativo Perché al momento quando... 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 Si interpretare qualcosa È come una cosa più originale, personale Che... Ci deve fare il meglio di me Questo è difficile di dire E... Ancora una cosa Quest'anno, se non c'è bisogno Un paese che secondo lei vi girà Ah, ah No Io non vuole dire Voglio guardarvi gli amici No, non vuole dire Per te E soltanto un saluto Per i nostri amici Trocai Italy Ciao Ciao Italia A presto Sì Ciao